questa terra un po racconta la storia di tre generazioni differenti perché mio nonno nasce viticoltore insieme a mio padre cambia rotta e passa dalla vigna al limone e poi ecco la terza generazione la mia generazione il piacere di non solo portare il nome di mio nonno ma anche di ereditare una bellissima passione che è l'agricoltura e da lì il cambio di rotta era un periodo storico in cui il limone era era si vendeva poco si vendeva poco considera che qua abbiamo mano d'opera che ci segue da tre generazioni quindi qual era l'opzione che fa lasciamo a casa lasciamo a casa tutti abbandoniamo abbandoniamo i terreni e da lì un'ispirazione il primo viaggio in Brasile devo dire che è andato più che bene perché poi in agricoltura poi non bisogna essere avventati questo è fondamentale ci vuole molta ci vuole molta curiosità sicilia avvocato innanzitutto è un brand ma credo che sia un modo per poter raccontare il bello della della sicilia quindi lo spirito la volontà intraprendenza perché cerchiamo di conciliare sia tradizione che che innovazione il prodotto ha un origine sudamericana la richiesta è altissima quindi considera che ci sarà un boom nei prossimi nei prossimi anni tra il viene calcolato tra il 10 e il 20 per cento quindi c'è una sorta di di corsa a piantare avvocato noi offriamo una fidera corte un prodotto tracciato perché siamo sempre noi a raccoglierlo un prodotto biologico è un prodotto da un punto di vista organolettico e sensoriale superiore quello che è fondamentale è terreno acqua e clima allora il cambiamento climatico se non è un'arma a doppio talle è vero che qui ci aiuta ci aiuta perché noi siamo in una zona veramente riparata riparata sia dal vento sia dai quei cambiamenti improvvisi atmosferici abbiamo minime che non scendono sotto i 7 gradi e questo fa tanto per il sub tropicale il clima cambia ma cambia in modo repentino adesso una stagione e mezza fa più o meno mi ricordo una tromba d'aria ci ha fatto volare 400 piante ma quello che è fondamentale non è tanto il clima o il cambiamento climatico qua abbiamo quello che è fondamentale la struttura del terreno 15 anni fa il terreno era questo terreno di origine vulcanica 974 grammi di sabbia su un chilo di terra quindi un terreno sabbioso completamente sabbioso questo è fondamentale non solo di origine vulcanica ricco di microelementi minerali sono fondamentali all'alimentazione dell'avvocato quelle aziende che hanno il desiderio di innovare vogliono cambiare rotta bene organizziamo un gruppo quindi un consorzio un consorzio di produttori una punta di diamante sub tropicale dove presentiamo nel paniere tanti prodotti e usciamo da un'ottica individualista usciamo da un'ottica individualista che ha contraddistinto la Sicilia ha contraddistinto tante ragioni in particolare la Sicilia quindi cerchiamo di dare questo input dove l'unione fa la forza il risultato poi del ram chi semia chi semia raccolta